Una perfetta fusione tra arte e solidarietà e il concerto benefico sulle ali della musica organizzato da Fondazione Taranto 25 e la Casa di Sofia ha colpito e commosso gli spettatori. L'evento ideato dai fratelli Massimo e Davide Miccoli si è tradotto in un viaggio concerto con video, musica ed emozioni tra le metropoli e i paesaggi dei grandi parchi americani sulla palco dell'hotel Salina. L'iniziativa è stata subito sposata da Fondazione Taranto 25, il network innovativo che riunisce 50 tra imprenditori professionisti e operatori dell'associazionismo, che ha curato l'organizzazione sostenendo i costi. La serata è stata presentata da Angelo Vozza, presidente merito di Fondazione Taranto 25, e da Mariangela Terì, presidente della Casa di Sofia e socio onoraria. Il ricavato sarà impiegato principalmente per sostenere a Taranto il progetto Scuola Calcio Insuperabili, una scuola inclusiva dedicata a bambini e bambine con disabilità, e il progetto Invictus della Fondazione Vanni Longo di Marugio. I principi ispiratori di Taranto Fondazione 25 sono la solidarietà, l'amore per la città, l'interesse per gli altri. La Casa di Sofia, che ha sposato una causa umanitaria della salute, della problematica della salute dei bambini, non poteva che sposarsi e coniugarsi con Taranto 25. Intorno alla Casa di Sofia si è creato un gruppo di amici che non smette mai di stupirmi. Questo concerto è merito loro, sono loro che hanno messo insieme tutte le forze per poterci donare quello che ci serve per andare avanti per i nostri progetti, che sono tanti e riguardano tutti i bambini con disabilità. Musica è un viaggio e immagini dei miei reportage video, e quindi abbiamo messo questo format insieme, che è un concerto ma è soprattutto un viaggio.